Un buongiorno ben svegliati e ben Un buongiorno ben svegliati e ben svegliati e ben svegliati. Un buongiorno ben svegliati e ben svegliati e ben svegliati. Per ora restano gli aumenti. Regione oggi si vota il bilancio e si contano le alleanze. Ovviamente in vista del voto e verso il voto appunto Marsiglio conta su sei liste ma Di Stefano va da solo. A centropagina la fotonotizia ovviamente non può che riguardare il Pescara che ringrazia Brugman autore del gol ieri sera contro il Venezia di Zenga e sale al terzo posto. E questa è l'esultanza dei giocatori bianco-azzurri che ieri vittoriosi 1-0. Poi ovviamente rivedremo il servizio e vi proporremo un'intervista a Beppi Pillon e il nostro Paolo Renzetti. In basso sotto la fotonotizia i concerti sorvegliati da 300 uomini. Pescara blindati gli show di J-Axe e Silvestri, vietati petardi e spray al peperoncino. Ovviamente c'è massima allerta soprattutto in vista dell'ultimo dell'anno a cui ci avviciniamo a rapidi passi. Nelle cronache Pescara, donne aggredite a Porta Nuova, l'inchiesta riparte a Montesilvano, grandi alberghi, arrivano luci, alberi e panchine. Poi in tutta la città, popoli, ecco le telecamere antivandali. Questa è la prima pagina dell'edizione di Pescara del centro. Andiamo adesso su quella di Chieti, Lanciano Vasto, ovviamente cambia l'apertura e non solo. All'asta quadri d'autore pignorati, Chieti tasse non pagate, crescono le vendite giudiziarie e c'è chi va a caccia di affari. Vediamo la foto, regali e canestri, 150 bambini in festa al Palatrical, e il settore giovanile del Chieti Basket hanno festeggiato in campo il Natale. In basso siamo a Vasto, che si appella al ministro dell'interno Salvini più sicurezza, richiesta del sindaco. Dopo l'ultima rapina con gli spari servono rinforzi e ovviamente c'è anche polemica. Nelle cronache a Chieti e a Natale vince 100 mila euro. È un sogno e allora complimenti al fortunato vincitore. Sempre a Chieti arrivano i primi sette bus ecologici e a Lanciano, palazzo senza licenze e maxi richiesta di danni. Andiamo sull'edizione terramana del centro. Questa è l'apertura, ancora cronaca, trovato morto dopo quattro anni. I resti del giovane scomparso da Sant'Omero erano nell'auto finita in un fosso. La fotonotizia, perché ieri ha giocato anche la Serie C, il terramo non si ripete, sconfitto 2 a 1 dalla Ternana. In basso, legato e picchiato dai bulli sul bus, Val Vibrata, la vittima è uno studente minorenne che poi è stato medicato al pronto soccorso. Nelle cronache terramo filmati e scoperti i vandali dei Tigli sono quattro ragazzi. A Giulianova le mamme fanno cambiare i menu a scuola e poi libero accesso per i concerti di Capodanno in piazza a Teramo. Chiudiamo le quattro edizioni con quella dell'Aquila, questa è l'apertura, fiera più bancarelle e sicurezza. L'Aquila, gli stand saranno 360 con 40 volontari a solvegliare i varchi con la polizia. La foto, siamo ad Avezzano, messa del Vescovo Santoro, tra i detenuti del San Nicola. Il Vescovo di Avezzano Santoro posa appunto con gli organizzatori della messa nel carcere. Assenteismo in comune, siamo a Sulmona. 18 nei guai, i giudici contabili chiedono un risarcimento totale di 275 mila euro. Nelle cronache affossa ricostruzione, solo 5 i consorzi avviati su 44. L'Aquila c'è l'intesa, Caserma Rossi oltre la metà al comune. Torniamo ad Avezzano. Il sindaco, 20 cantieri per 30 milioni, questo è l'obiettivo del 2019. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sulla prima pagina del Messaggero. Questa ovviamente è l'apertura, assalto armato in centro. Ovviamente ritorna la notizia di Pescara. Due uomini e una donna irrompono nella gioielleria. Officine complicato di Piazza Salotto, vitrine spaccate con dei fucili, addio Rolex e diamanti per centinaia di migliaia di euro. Andiamo, qui siamo a termo, paziente muore, ipotesi mucca pazza, disposte le analisi per la conferma della diagnosi. Risaliamo in pagina, come vedete sotto l'altra apertura, più in alto ma più piccola, è dedicata al Pescara che pesca il jolly, Brugman 1-0 al Venezia. Altre notizie di sport, Serie C, Fior Daliso illude il Teramo a Terni, poi arriva il K.O. Per il volley, si eco, sfuma la Coppa Italia, ma si fa ugualmente festa. Poi, altre notizie, verso il voto, il centrodestra corteggia Di Stefano, vieni con noi. A Lanciano, confcommercio battuta da Ascom sull'uso del marchio. A Tortoreto, scomparso quattro anni fa, lo scheletro è stato trovato nell'auto. Daniele Taddei, sulla sua micra, non si era allontanato troppo da casa. In basso, la stangata, pedaggi autostradali, si tratta sull'eventuale aumento, che è di solito, purtroppo, cattiva a prassi ogni inizio di nuovo anno. Andiamo in provincia di Teramo, con il quotidiano La Città, ritorna la notizia di Tortoreto, morto in un fosso da quattro anni. Il corpo di Daniele Taddei di Santomero era nella sua auto, trovata da un cacciatore proprio a Tortoreto. In alto, siamo a Roseto, in consiglio lo strappo tra recchiuti e pavone, divergenze elettorali. A Valle Castellana, Monte Piselli, impianti aperti con il botto. La fotonotizia, beccati i balordi, le telecamere non bastano, altri danni in Natale dei vandali. E poi, sotto, proteste contro il caro pedaggi, i sindaci annunciano blocchi ai caselli il 31 dicembre. A Teramo, niente braccialetto per gli eventi di Capodanno. Il PD teramano chiede a Anna Marcozzi in vista delle elezioni regionali. In basso, l'illusione del Teramo contro la Ternana dura appena sei minuti. Andiamo adesso alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Ecco il Corriere della Sera. Ovviamente, violenza negli stadi, razzismo, li ritroveremo non solo nei quotidiani sportivi, ma anche nei quotidiani generalisti. Questa è l'apertura, violenza, razzismo, calcio sotto shock. La morte di un ultra nero azzurro, gli insulti a Coulibaly, sanzioni all'Inter. La Serie A, però, non si ferma. Assalto con le roncole e i martelli ai tifosi del Napoli. Poi il neofascista di Varese viene travolto e ucciso da un SUV. 2018-2019, come vedete il passaggio, immagine un anno di volti e di storie. E poi la manovra più tasse sul volontariato, il governo fa retromarcio. Sarà cancellato il raddoppio dell'Ires per il terzo settore. E c'è l'analisi di Gian Giacomo Schiavi. Che senso aveva punire il bene? La Repubblica, Milano ancora un morto da stadio, interpunita il calcio. Non si ferma, assalto ai napoletani, investito e ucciso il tifoso nero azzurro. Il questore dice basta trasferte le analisi, la tolleranza verso le bande di Piero Colaprico e tanti gol, poco coraggio di Emanuela Audisio. E poi lo scenario interessante di Paolo Berizzi. Agguati alleanze perché fa paura il nuovo fronte degli ultra. Scendiamo, ovviamente c'è anche la manovra. Di Maio si arrende e ritira la tassa sulla solidarietà. Dopo le proteste delle associazioni non profit, la polemica di Sergio Rizzo è sempre colpa dei tecnici. Il Fatto Quotidiano sta di come è morto l'ultra a San Siro e come i nazi si sono ripresi le curve se indagati, campo squalificato. Ma la A non si ferma e poi vediamo a centro pagina retromarcia sull'Ires, non profit, cantone, cambiare sulle gare, manovra infinita. Di Maio rivedremo la tassa, l'ANAC contro la riforma degli appalti. Il manifesto, lo stadio dell'odio. Un morto e quattro feriti a Milano prima di Internapoli. La vittima investita da un SUV era un tifoso nero-azzurro di estrema destra già colpito da Daspo. Il questore negli stadi, un'escalation di odio e violenza, proteste per i cori razzisti contro il difensore di Napoli e Coulibaly. Ma il campionato non si ferma. In alto, manovra dietro front su Ires, no profit, legge di bilancio. Oggi i pensionati scendono in piazza. Libero morire per il calcio. Fanatico interista investito e ucciso. Scontri fuori dallo stadio prima di Internapoli. Teppista ci rimane. Non si sa chi l'ha ammazzato, ma partono i processi al pallone con tanto di accuse di razzismo. E ci rimettono solo i tifosi pacifici. Battaglia in borsa. Fiat contro Berlusconi e Figli. In basso, rincarie autostradali. Il ministro Toninelli non conosce tregua. E poi, la manovra ha più dei trattori che fanno. Il popolo brucia in piazza il fantoccio di Di Maio. Sole 24 ore. Dalle bande musicali a clientele e consulenti, raffica di 106 mance. legge di bilancio, insomma, si entra un po' all'interno dei numeri di questa legge di bilancio. Reddito di cittadinanza da 5 a 18 mesi. Lo sgravio per l'impresa che assume il tempo. Lazio, sanità ancora commissariata. Il governo generale attese della regione. Da gennaio non si torna alla gestione ordinaria. Zingaretti lo aveva annunciato, ma l'esecutivo frena. Verifica in corso. Servono mesi. E poi, a centro pagina, tolleranza 0 a 0. Gara scandalizzarsi per i cori razzisti a San Siro. Però il calcio non si ferma. E domani la Serie A torna in campo con l'ultima del 2018. La stampa, violenza negli stadi. La svolta di Salvini incontrerò gli ultrati. Foso ucciso da un SUV, insulti a Coulibaly. San Siro chiude per due turni. Gianni Riotta sulla stampa scrive Se l'odio ti è seduto accanto. E poi parla Ebagua, ex giocatore di Torino e Varese, urlavano sempre Torna in Africa. Evidentemente si riferisce ai tifosi che ha avuto in passato. Bangladesh, sangue sul voto e timori di una svolta autoritaria. In basso, il ricorso dopo il crollo del ponte Morandi, autostrade, il governo ci usa come un bancomat. La verità, il finto antirazzismo del calcio. Lacrime di coccodrillo per Inter Napoli, anziché legge ordine, si applica alla filosofia della prossima volta. L'unica decisione saggia, sospendere la partita quando partono i cori beceri, non viene mai adottata. Mentre prima e dopo è tutto un inutile stracciarsi le vesti e gli ultra continuano a imperversare. Un morto e quattro feriti, negli scontri, chiuso il meazza, ma così pagheranno solo gli onesti. La lettera del Papa per cercare di sedare lo scontro in Vaticano. E poi in basso, sotto la foto, Dictat a Milano, i figli nascono da due donne. Il Comune concede alle coppie lesbiche di registrarli, prima del parto, un altro passo verso l'eterologa. E ancora più in basso, a fondo pagina, la Corte Europea apre le porte alla Sharia. Sentenza shock, le comunità islamiche possono basarsi sulle loro leggi. Il secolo d'Italia, la retromarcia, Giorgia Meloni si sta votando a colpi di fiducia e con tempi fogli una legge di bilancio che a detta degli stessi esponenti del governo dovrà essere riscritta a gennaio. Ovviamente è quotidiano, molto vicino a Fratelli d'Italia, ecco perché l'apertura è dedicata alle parole di Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia in missione del Catanese dai terremotati dell'Etna. Manovra è alla Camera, ma ora tutti la bocciano. Bù contro Coulibaly, delirio di De Magistris. E allora vediamo sul mattino di Napoli perché gli ultra volevano massacrarci. Questa è l'apertura del quotidiano partenopeo, interista travolto e ucciso negli scontri di Milano e tifosi napoletani aggrediti in auto con asce e bastoni, ma il calcio non si ferma neanche per un morto e i cori razzisti. Gravina attacca De Laurentiis e Ancelotti. Tutti solidali con Coulibaly tranne il giudice sportivo che gli ha dato due giornate di squalifica. Manovra salgono le tasse, sudfermo e il lavoro è in calo, stangata sul volontariato. Il governo è una norma da cambiare. L'avvenire indietro e avanti. Conte un errore, l'alta le agevolazioni Ires per il non-profit. Si cambierà la manovra verso l'ok finale tra le proteste. Meno investimenti e più tasse. Un calcio violento, un morto, ma si gioca lo stesso. E poi il caso, Sardegna mobilitata. Fermiamo le armi. Adesso, prima di andare ai quotidiani sportivi, andiamo a vedere anche la prima pagina. Questa poi la vedremo dopo. la prima pagina del quotidiano La Nuova Venezia, che vedremo tra poco, per vedere anche la prima pagina. Ecco qua. Questa, siamo a Venezia, appunto. Feste amare per il Venezia, secondo KO di fila. C'è la foto di Bentivoglio in azione. Seconda sconfitta consecutiva per il Venezia di Zenga, che cade 1-0 a Pescara nella diciottesima di Serie B. Adesso vediamo i quotidiani sportivi. Un calcio a violenza e razzismo. Questa è la gazzetta dello sport. Ultramore investito dopo la guerriglia. Bua a Coulibaly, Inter stangata. Ma domani si gioca, folle notte a San Siro. Sport e politica si mobilitano, come sempre accade in questi casi, però poi difficilmente cambiano alcune cose. L'editoriale di Andrea Monti, di tolleranza zero per gli intolleranti. In basso, il questore di Milano è il sottosegretario Cardonea, evitata una strage. Giorgetti rischi mai di sera. Il comunicato dei Nerazzurri, il club si schiera contro i razzisti. La nostra storia è integrazione. L'intervista a Vecchioni, cantautore e tifoso, speravo in uno stop, però Milano è aperta e solidale. In basso, torniamo a parlare un po' di sport. Milan al Bivio Spal, dei rinforzi estivi si salva solo. Bacayoko, il rendimento di Higuain, simbolo di un mercato deludente. Il francese, unica nota positiva, ma il riscatto è alto. Il Corriere dello Sport, salviamoci. La morte di un tifoso, l'obbligo di non fermarsi e agire. L'editoriale del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, duri, diretti, inesorabili, agguato a Milano, prima di Internapoli. Un ultra del Varese, legato agli interisti, perde la vita, travolto da un SUV. Il questore Cardona, azione squadrista. Chiederò di vietare le trasferte ai supporter Nerazzurri per tutta la stagione. Salvini convoca club e portavoce del tifo. L'annuncio di Gravina, niente stop, si gioca. Corri razzisti contro Coulibaly, Inter punita due turni a porte chiuse e il terzo lo giocherà senza la curva. Altre notizie di Sport, De Ligt più Trincao, la Juve si fa giovane, poi Milan gattuso sul filo. Troppo pessimismo. Serie B, il Palermo vola, sale il Perugia di Alessandro Nesta. Chiudiamo con Tutto Sport. Siamo tutti Coulibaly. Ronaldo è il mondo del calcio, di cui fa parte però Ronaldo. Questo distingo è un po' particolare. Si schierano con il difensore del Napoli dopo i Budi Sanziro. Comunicato dell'Inter, la nostra storia è fatta di inclusione e rispetto. Chi non l'accetta non è uno di noi. In alto si gioca, ma basta parole. Tragedia a Milano, così è morto il capo ultra Belardinelli. La FIGC linea dura, però domani in campo. Notizie di mercato. Juve Ramsey si fa, il Gallese arriverà a giugno. Lazzari, Mossatoro, alla spalla i rinforzi che servono per la salvezza. E poi Higuain, ciao Milan. dentro la crisi di un campione. Ci fermiamo per questa prima parte di Mattino 6. Adesso spazio alle notizie del meteo, la pubblicità. Poi torniamo per leggere dall'interno i quotidiani di casa nostra. Seconda parte di Mattino 6. Siamo pronti per andare a leggere dall'interno i nostri quotidiani. Ripartiamo con il messaggero, ma tanto vedrete che comunque la questione caro pedaggi sulle arterie A24 e A25 tornerà un po' su tutti i quotidiani regionali abruzzesi. Vediamo allora A24 e A25 si tratta per rinviare i rincari a marzo. Toninelli e SDP hanno discusso per tutta la giornata di ieri. Niente, aumenti in cambio di fondi per la messa in sicurezza. Poi vedremo se sarà così. Per la politica il centrodestra corteggia di Stefano. Corri con noi, non andare da solo. E vediamo che anche sugli altri quotidiani la questione A24 e A25 ritorna perché vediamo sul quotidiano il centro A24 e A25 fumata nera gli aumenti per il momento restano Strada dei Parchi chiede di sospenderli ma l'accordo non c'è l'incontro al MIT si chiude con un nulla di fatto questo è quanto per la questione autostrade ma vedete che nell'altra pagina c'è la questione autostrade e poi anche la politica ovviamente perché le elezioni si avvicinano per Di Matteo Gerosolimo e gli altri l'ora della verità il voto in consiglio dietro le quitte la manovra si consuma un risico politico prima delle elezioni riscate di più è la maggioranza che può optare per l'esercizio provvisorio poi la finanziaria regionale in pillole la spesa per la sanità è quella che incide di più andiamo avanti questa è la pagina Abruzzo verso le regionali Marsiglio sei liste ma di Stefano non c'è questo ovviamente siamo nel centrodestra due vertici alla stessa ora il senatore di Fratelli d'Italia Blinda l'Udc e l'ex deputato decide di andare da solo sabato incontra Toto vedremo quali saranno gli ulteriori poi scenari in basso Di Nicola lancia più Europa con Legnini nel cartello elettorale figurano assessori uscente Di Ignazio Di Florio Pingue e Paolini siamo a Pescara rapina in centro con i fucili nella banda c'è una donna a colpo da 100 mila euro a Piazza Salotto quattro banditi assaltano una gialleria fuggono su due moto e poi le incendiano queste sono le foto che troviamo anche nella pagina accanto alla vista di quel fucile ci siamo barricati dentro i negozianti vicini all'orificeria i clienti sono entrati da noi terrorizzati una cittadina adesso abbiamo paura questa zona è sempre più degradata queste sono le testimonianze di una giornata davvero di terrore puro notizia questa che ritroviamo anche sul messaggero assalto alla gioielleria con i fucili banditi armati irrompono alle officine complicato vetrina sfondata e fuga con orologi e gioielli preziosi lo shock dei passanti in piazza Salotto erano in quattro tra cui una donna le due moto ritrovate bruciate all'ex FEA li ho visti fuggire anche qui le testimonianze è stato spaventoso Nicoletta Verì ed Ettore Ricciuti sono stati velocissimi mentre fuggivano hanno rischiato anche di investire una persona terrore in centro due come vedete perché a pagina 45 ho avuto paura per i bambini da Barbara a Fabio Cazzaniga solidarietà al collega rapinato e una denuncia qui in piazza Salotto non ci sentiamo sicuri il colpo è avvenuto davanti alla statua dell'elefante dove i piccoli amano giocare è stato corso davvero un grosso rischio telecamere leggiamo nel box fuori uso e l'assessore Teodoro annuncia a breve nuovi impianti e una sala operativa all'ex Onmi il questore intanto per un capodanno sicuro vieta petardi e spray ai due concerti giro di vite per gli eventi di fine anno e inizio anno con J-Ax e Silvestri e speriamo che vada tutto bene pagina 47 Oman il fascino del capodanno il paese del golfo è tra le mete più gettonate dei pescaresi per queste festività natalizie redgono le capitali europee Cenone e Veglione è la formula preferita da chi resta boom di prenotazioni nei locali costi da 100 a 170 euro qui siamo all'Aquila ci torniamo tra poco perché vediamo San Silvestro e Capodanno il piano sicurezza concerti blindati vietati botti e spray al peperoncino le aree degli eventi delimitati da barriere controlli affidati a 300 persone donne aggredite altri 6 mesi di indagini il giudice ha respinto la richiesta di archiviazione la procura dovrà fare luce anche su un altro tentativo di pestaggio e poi il weekend gli appuntamenti il presepe vivente di Cavaticchi torna con 150 protagonisti presepe vivente che come vediamo ci sarà anche a Bolognano a Montesilvano il progetto così cambia il curvone alberi panchine e luce e il nuovo largo Venezuela previsto anche un monumento per suggellare la fratellanza con Montesilvano costituito un comitato per raccogliere fondi destinati a realizzare una scultura nella pagina accanto Perazzetti sono pronto a candidarmi a sindaco siamo a Città Sant'Angelo il consigliere della lista civica siamo a Città Sant'Angelo chiede dal centrodestra una coalizione forte per Reggi Conti Rosso e Marina trascurata sono le priorità Francavilla solidale pranzo di Natale con 150 bisognosi pomeriggio e giochi di festa con l'associazione Emozioni assistiamo ogni giorno Clochard e 80 famiglie in difficoltà e stasera a Francavilla c'è Cristina D'Avena in concerto concerto alle 18 vietata la vendita delle bevande in vetro a Popoli il piano del comune Popoli più sicura telecamere ovunque videosorveglianza assicurata agli ingressi della città e in centro con 40.000 euro di finanziamento dell'ufficio della ricostruzione e domani c'è l'inaugurazione a penne del nuovo Marconi penne il must dell'istituto tecnico commerciale sostituirà la sede chiusa da due anni dopo il crollo del tetto a Chieti quadri auto vino e borse ecco i beni pignorati all'asta boom di vendite giudiziarie c'è chi va a caccia degli affari a quel punto a prezzi stracciati le due facce della crisi le tasse non pagate poi evidentemente rimettono in circolo dei beni pagamenti e tempi come funziona l'assegnazione c'è anche il vademecum e poi nelle foto come vediamo un diciamo tutto quello che va all'asta quello che c'è all'asta sette tele d'autore da 60 mila euro a 60 mila euro a vasto un furgone totalmente nuovo insomma ce n'è veramente per tutti i gusti in basso siamo a vasto le parole del primo cittadino Francesco Menna Salvini ci mandi più uomini pello del sindaco dopo l'ultima rapina servono altre forze dell'ordine per garantire la sicurezza altro colpo a Chieti a Natale vince 100 mila euro beato lui è il sogno della mia vita a Teatino gioca a una schedina alla tabaccheria di via De Vergili se sbanca al super Enalotto i titolari ci ha ringraziato con una telefonata a Chieti e Chieti è prima in Abruzzo per la lotteria evidentemente un posto fortunato in basso altra notizia che riguarda Chieti perché arrivano i primi sette autobus ecologici altri otto pronti entro un anno con l'Antonio zero inquinamento e a bordo telecamere e informazioni siamo a Teramo il giallo di Santomero trovato morto dopo oltre quattro anni i resti di Daniele Taddei nella sua auto finita in un fosso potrebbe essere stato un incidente ovviamente ci sarà l'esame si farà l'esame del DNA la macchina trovata in contrada a terra bianca di Tortoreto da un cacciatore era a circa 200 metri dall'abitazione della nonna il caso finì anche a chi l'ha visto in basso legato e pestato dai bulli sull'autobus la vittima uno studente di un istituto superiore della Val Vibrata in ospedale per i colpi ricevuti al volto davvero incredibile l'intervista stop al massacro della nostra cucina schillaci contro tutti il presidente dei ristoratori Teramani accusa anche associazioni come Slow Food e Qualità Abruzzo ci penalizzano invece in basso a proposito di Capodanno accesso libero per i concerti di Capodanno termo nessuna restrizione per Piazza Martiri anche qui ci sarà Cristina D'Avena conclude Ermalmeta Siamo ad Atri la Lega di Atri scuola bus in giro con le gomme lisce il carroccio accusa l'amministrazione comunale però smentisce replica tutti i mezzi sono stati controllati da una commissione e sono a posto invece a Silvi Scordella denunciate gli atti di inciviltà il sindaco di Silvi risponde alle polemiche sui social per l'abbandono di rifiuti e per la sporcizia all'Aquila mercato della Befana il 5 gennaio fiera più bancarelle più sicurezza i venditori saranno 360 493 erano le richieste 40 volontari a solveriare i varchi oltre all'imponente servizio di forze dell'ordine e c'è anche riassunto nello schema la 71esima fiera dell'Epifania i numeri e anche la dislocazione all'interno della città delle bancarelle e poi in basso in una bella iniziativa l'Aquila è matrice unite dal calcio partita di solidarietà al Gran Sasso a Concia con le due città gebellate dalla catastrofe ovviamente del terremoto furbetti del cartellino siamo a Sulmona processo per 18 i giudici contabili confermano le accuse per gli impiegati chiedono risarcimento danni per complessivi 275 mila euro a Sulmona muore il giovane che illuminava i concerti il 22enne Simone Rutito viveva a Turrone il dolore degli amici un fiore strappato alla vita in basso rocca di botte mutilato dal petardo pirotecnico dei guai processo all'imprenditore per un bimbo che ha perso una mano per un botto inesploso tra poco passeremo all'ampia pagina di sport però ricominciamo dal messaggero dall'Aquila e dal sindaco Biondi che dice no a Collemaggio il Cotugno alla caserma Rossi il sindaco annuncia la svolta in consiglio liceo alle scuole del Torrione all'ex Rossi il comune terrae il 60% dell'area l'agenzia delle entrate il restante 40% e poi è stato un Natale turbolento vigilia aggressione durante l'aperitivo cambiamo pagina in centro il miglior Natale dal 2009 il presidente dell'associazione centro storico Roberto Grillo presenze che non si vedevano da prima del tragico sisma restano però alcune questioni da risolvere dai trasporti ai parcheggi però l'Aquila ha vissuto comunque un Natale forse il migliore probabilmente come leggiamo dal dal 2009 aspettando San Silvestro musica di qualità e parti ad Avezzano dalla città bella alla città cantiere il sindaco De Angelis annuncia opere pubbliche su tutto il territorio comunale a partire dall'inizio dell'anno prossimo i fondi già stanziati per il 18 e quelli per il 2019 a farla da padrone sono gli investimenti nelle scuole del centro marsicano anche qui altre notizie sui furbetti del cartellino la corte dei conti è implacabile il caso di Sulmona a San Benedetto dei Marsi perdita di gas evacuato un intero quartiere diritto di luia udienza il 24 maggio e poi ad Avezzano il caso pronto soccorso finisce in Europa andiamo a Chieti ecco i bus che non inquinano si punta su elettrico ed Euro 6 ieri la consegna alla panoramica dei mezzi acquistati con i fondi della UE invece la ASL vara bandi per 35 nuovi assunti interesseranno i presidi di Vasto e Lanciano soprattutto per gli infermieri in basso la vertenza bolle i licenziamenti dal primo gennaio nulla da fare per i 75 impiegati che dovranno sottoscrivere solo briciole per gli incentivi via Bergamo raddoppia siamo a Lanciano trovati i fondi firmato ieri in municipio l'impegno di spesa per l'arteria strategica di ingresso a Lanciano da e per il casello dell'A14 con 95 mila euro ora anche via del mare uscita dalla città verso l'ex statale per San Vito Marina verrà messa in sicurezza sempre a Lanciano liberate la chiesa di Santa Maria Maggiore dalle auto costituito il comitato per la pedonalizzazione altre notizie la maxidiscarica di Cupello oggi in consiglio impianto sostenibile solo con i rifiuti degli altri e poi rapine e colpi di pistola chiamiamola far vasto vasto insomma leggetela come come volete a Teramo paziente di 77 anni muore a neurologia forse mucca pazza i medici hanno ipotizzato il morbo di Creutzfeld Jakob disposti esami di laboratorio per la diagnosi della malattia vedremo se poi sarà confermata caro pedaggi d'Alberto sindaco di Teramo si mobilita produrrà gravi danni al territorio siamo pronti a far sentire anche la voce di chi viaggia sulla tratta e sono tanti Teramo Roma feste di Natale con sorpresa il commercio rialza la testa dunque bene in città lo shopping di natalizio e poi Daniele trovato morto dopo 4 anni ex operaio della Wampum di 28 anni era scomparso dopo una delusione d'amore col case sempre aperto la famiglia Taddei non si era arresa era in rinvenimento nella sua auto sotto un ponte a terra bianca di Tortoreto Fosce del Cerrano invece a Silvi messo in sicurezza e poi in Val Vibrata il richiedente asilo spacciava droga identificato e denunciato autore dei furti negli hotel di Alba Adriatica rimaniamo in provincia di Teramo con il quotidiano la città Teramo e provincia ovviamente perché sono stati beccati 4 balordi del bosco incantato il comune sporge denuncia per i danneggiamenti della vigilia ai tigli ma c'è chi continua a fare danni ci sarà libero accesso invece agli eventi di Capodanno definite le misure di sicurezza in Piazza Martiri niente braccialetto vie de or e divieto di bottiglie in vetro raffica raffica di chiese riaperte a due anni dal sisma 14 edifici di culto danneggiati dalle scosse restituiti alla comunità dal vescovo Leuzzi e poi un esercito di volontari al presente vivente la protezione civile Gran Sasso svela il lavoro che c'è dietro l'allestimento alla villa comunale del 5 gennaio vediamo andiamo avanti eccolo qua il caso Taddei era morto in un fosso da 4 anni l'auto del 28enne sparita da Santomero nel 2014 trovata da un cacciatore a terra bianca di Tortoreto le indagini sulla scomparsa erano state archiviate due anni fa in quella zona si erano concentrate le ricerche ma senza esito esito che purtroppo hanno avuto solamente ieri passiamo allo sport adesso all'ampia pagina che ci attende perché ieri in campo Pescara e Teramo dunque una giornata agrodolce bene il Pescara male il Teramo e allora partiamo dai biancazzurri perché sul messaggero questa è l'apertura al gol ci pensa Brukman l'adriatico vince di misura il Delfino sul Venezia con un tiro del capitano che si insacca sotto la traversa un tempo di studio poi uno di buon calcio il palo nega Antonucci e la gioia della prima rete le parole del match winner siamo tornati nei piani alti giocando bene queste le foto della serata tra poco avremo il servizio Pilon le sue parole ordine tattica ho rivisto i miei giocare da squadra 22 punti in 9 partite casalinga dell'adriatico la media è da promozione in serie A allora ci vediamo il servizio di Paolo Renzetti che ha raccolto anche la voce del tecnico biancoazzurro Beppe Piloni una super prodezza di Gaston Bruggemann alla mezz'ora della ripresa regala una vittoria di inestimabile valore al Pescara ma soprattutto un successo meritato in 90 minuti contrassegnati da una netta supremazia dei biancazzurri chiamati ora ad un risultato positivo domenica prossima sul campo della Salernitana dirige Pezzuto con gli ospiti che si vedono al quarto con un colpo di testa di Pinato sugli sviluppi di un corner con la palla che finisce al lato di poco al sesto la risposta locale con un missile dai 25 metri di Macin che manca di poco il bersaglio grosso all'undicesimo ci prova anche l'ex romanista Antonucci ma la sua conclusione è centrale e il Delfino a cercare di fare la partita trovando però pochissimi spazi al 25esimo braccio largo nell'area veneziana di Pinato che tocca la sfera e con Pezzuto che lascia proseguire fra le proteste biancazzurre altre proteste del Pescara qualche minuto dopo con un tocco con la mano in area veneziana di Zampano ma con il fischietto Salentino che lascia ancora proseguire il Pescara non si deprime preme e attacca senza soluzione di continuità trovando però pochi spazi nella metà campo Veneta con il Venezia tutto compresso nella propria tre quarti di campo e al 44esimo poi dopo aver rischiato di andare sotto la squadra veneziana arriva invece ad un passo dal vantaggio con Fiorillo che dice no a Brioni salvandosi nel calcio d'angolo la ripresa ricomincia con il Pescara in attacco al 13esimo infatti il palo a negare il vantaggio al Pescara e ad Antonucci la prima rete stagionale come nel primo tempo la squadra di Pilon fa la partita con il Venezia pronto a sfruttare il contropiede al 16esimo fra gli ospiti è Marsura a calciare a lato imitato due minuti dopo da Di Mariano il canovaccio della gara è sempre lo stesso con i biancazzurri che si rivedono al 26esimo con Antonucci ma il vantaggio del Pescara è nell'area e arriva alla mezz'ora con un euro goal di Brugman che di destro dai 20 metri mette la palla sotto la traversa esplode lo stadio diatico con il capitano che festeggia la terza rete della stagione i biancazzurri credono nella vittoria e continuano a spingere visto che al 34esimo Balzano in area veneziana sfiora il 2 a 0 il tecnico biancazzurro Pilon poi decide un po' di coprirsi gettando nella mischia Canute e Ciofani per Antonucci e Marras passando così ad un inedito 3-5-1-1 nel finale ci sono altre due occasioni che non cambiano però il senso della partita con la parata di Fiorillo su Di Mariano al 92esimo e la conclusione pochi istanti dopo di Canute con la risposta di Vicario al 95esimo è festa Pescara con tre punti che permettono ai biancazzurri di tornare al terzo posto in classifica vittoria importante ma direi soprattutto meritato avete corso zero rischi in difesa e questa è un'altra bella notizia sì siamo stati molto più compatti più ordinati giocavamo uno per l'altro sempre giusti in campo abbiamo concesso quasi zero se non un tiro in porta nel primo tempo nella seconda parte nella parte finale un tiro insomma niente di che invece noi abbiamo avuto delle buone possibilità specialmente nella ripresa e giustamente siamo passati in vantaggio aveva chiesto ai suoi ragazzi in settimana di voler rivedere la cattiveria dei bei tempi e oggi è stato accontentato sì io voglio una squadra così pratica compatta forse meno bella delle altre volte ma che poi alla fine raggiunge l'obiettivo perché poi alla fine conta il risultato e noi siamo misurati per i risultati nonostante il periodo opaco il Pescara con questa vittoria è tornato al terzo posto diceva Vincenzo Fiorillo questa squadra ha subito critiche troppo pesanti esagerate d'accordo? ma io le critiche le accetto perché faccio questo lavoro so che quando le cose non va bene la critica viene sempre rivolta verso l'allenatore io credo che i giocatori hanno sempre dato il massimo anche delle volte sbagliando partite ma hanno sempre dato il massimo di quello che potevano dare perciò io credo che loro devono essere contenti dei ragazzi di quello che stanno facendo perciò dobbiamo migliorare lo sappiamo io accetto tutto quello però chiaramente faccio l'allenatore faccio le mie scelte e cerco sempre di farle in funzione e in bene per il Pescara e dunque rientriamo cambiamo quotidiano adesso andiamo sul centro riscatto bianco-azzurro una magia di Brugman il Pescara è terzo Pillon torna al successo con lo stesso centrocampo criticato dopo Verona ed è una festa che come vediamo festa doppia per Pillon dedicato alla mia nipotina la gioia dell'allenatore le parole anche di Gaston Brugman abbiamo dimostrato di essere una squadra di alto livello capitano bianco-azzurro alla terzo gol stagionale e poi c'è se cambiamo pagina il Pescara va Fiorillo vinciamo a Salerno poi voglio un 2019 che sia da sogno Sebastiani febbricitante ma contento vediamo anche le pagelle Gravillon re in difesa Antonucci invece è in crescita cambiamo adesso andiamo alle note dolenti Teramo niente bis la Ternana vince con il minimo sforzo dopo aver battuto la Triestina al diavolo non riesce il secondo successo di fila e paga gli errori in difesa Maurizzi senza alibi dice siamo stati poco aggressivi il tecnico bianco-rosso dopo il gol del pareggio ci è mancato il coraggio insomma i bianco-rossi che vanno K.O. per 2-1 anche in questo caso vediamo il servizio della partita poi le parole del tecnico bianco-rosso a Giannore Maurizzi l'illusione del Teramo dura soltanto sei minuti tanti passano dal pareggio nella ripresa di Fiordaliso al gol del 2-1 di Pobega che indirizza definitivamente la gara dalla parte Umbra non è stato un bel diavolo quello del Liberati lo ammetterà anche Maurizzi a fine gara poco coraggio nelle decisioni troppa imprecisione sia in fase di proposizione ma e questa è una novità anche nell'organizzazione difensiva Decagno dall'altra parte invece con problemi di formazione praticamente fino a quasi il fissio d'inizio capisce che la chiave del match è nel ruolo degli esterni di attacco con dei cambi di fronte a prendere in preparata la retroguardia bianco-rossa su tutti è Frediani il migliore in casa rosso-verde praticamente imprendibile finché restere in campo vicino al gol in apertura prima di siglarlo alla mezz'ora del primo tempo col diavolo in ritardo nelle chiusure e pigro così come lo sarà per molti tratti della gara il diavolo prova una reazione solo abbozzata con gli annariti che passa però una prima frazione il cliché della ripresa è pressappoco lo stesso il terreno non aiuta il diavolo che paga un gap fisico con gli avversari che sembrano a loro agio maggiormente su un terreno di gioco non perfetto al 57esimo la squadra di De Cagno potrebbe calare il B se ha ben due occasioni per farlo ma è incredibile cosa riescono a fallire Bifulco prima murato da ventola e Mari Lungo poi a pochi passi dalla porta di Lewandowski e come la più classica legge del calcio insegna qualche giro di lancetta e la deviazione fortuita di Fazio sul piazzato pennellato di Proietti spiana la strada al primo gol di stagione di Alessandro Fiordaliso in spaccata arriva un destro violentissimo che lascia Ienna Rilli impietrito a cercare di capire la dinamica di un gol da vedere e gustarsi soprattutto con i 117 tifosi bianco-rossi arrivati e liberati ma come detto quello di Terni non è pure lontano parente del Teramo visto sabato contro la Trestina ci mette poco a farsi schiacciare di nuovo e al 62esimo la sponda di Bifulco libera la conclusione vincente di Pobega proprio quel Pobega che questa gara non doveva neppure giocarla invece lo fa con una mano operata e fasciata e solo perché Ristov aveva alzato bagniera bianca nel riscaldamento un colpo durissimo per il diavolo che sbanda nonostante cambi modulo e uomini ma tira un sospiro di sollievo quando Altobelli non si accorge di avere il pallone buono per il Tris il resto è attesa di un trebice fischio che fa girare il Teramo a quota 20 punti Bottino quanto meno magro da rimpinguare in un girone di ritorno che parte domenica al Bonolis arriva il Sud Tirol di Rocco Costantino altro spunto di interesse visto che alle porte c'è il mercato di gennaio e l'attaccante è una delle grandi suggestioni per la società di Campitelli Viene da dire un peccato perché magari tenendo duro qualche altro minuto dopo il gol del pareggio di Fiordaliso forse il Teramo poteva sperare in un risultato positivo Sì però oggi non eravamo non siamo stati molto cattivi ci siamo fatti aggredire forse loro hanno fatto una partita importante quindi c'è anche i meriti loro però sicuramente noi dovremmo dovremmo essere un po' più un po' più non ci dobbiamo far sorprendere un po' più incisivi un po' più di coraggio Ma ci vorranno più di 20 punti nelle prossime 19 giornate Vabbè io credo che la quota salvezza sia 40 e oggi siamo salvi no? Sì Se il Teramo fa altri 20 punti ok dobbiamo farne di più quindi la quota salvezza si può alzare abbassare ma credo che non si scappi giù di lì ma noi dobbiamo fare i più punti possibili e cercare di fare i più punti possibili quindi adesso pensiamo alla partita di domenica dobbiamo recuperare energia abbiamo un giorno in meno di recupero rispetto a Sud di Tirol e quindi cerchiamo di recuperare energia per farci durare pronto per questa prima di ritorno continuiamo a parlare di Ternana Teramo andando sul messaggero Teramo Fiordaliso illude ma poi perde a Terni finisce 2-1 per i palloni di casa attaccante realizza la rete il provvisorio pareggio Spighi per De Grazia tenuto a riposo l'andata si chiude a quota 20 punti e Maurizzi come avete sentito tira le orecchie al gruppo poco aggressivi andiamo sullo sport sulla città doppia pagina per il Teramo Fiordaliso illude Frediani Pobega condannano il Teramo allo stop diavolo sconfitto al Liberati dopo aver ripreso un match che lo vedeva sotto 1-0 le parole di Maurizzi è mancato il coraggio ma a 40 punti siamo salvi De Cagno invece dice è un momento delicato seppur dopo una vittoria per la Ternana facciamo un salto anche torniamo in Serie B per mostrarvi il tanto spazio lo spazio che c'è proprio sul Corriere alla B e a Zenga che si piega solo a Brugman un missile dell'uruguaiano al 74esimo sorprende Vicario Literi sbaglia Pilon Blinda Vittoria e il terzo posto peraltro c'è anche l'analisi il commento sulla giornata di Serie B che vi segnalo Stellone Pilon Bucchi e Nesta la magia della Serie B come leggiamo esistono anche in questo campionato delle certezze intanto uno è evidente il veterano Pilon non ha nessuna voglia di mollare il vertice della classifica anche se per battere Zenga c'è voluto un bolide di Capitan Brugman complice forse un attimo di ritardo del portiere Veneto abbagliato dal mago uruguaiano gol che vale il terzo posto vediamo adesso sul a Venezia come la prendono Venezia festa festa senza sorrisi il castigo arriva da Brugman Bentivogli e Soci sconfitti 1-0 dal Pescara dopo una sfida con poche emozioni secondo stop consecutivo l'attacco non punge domenica al Penzo arriva il Carpi e chiudiamo con il messaggero Umbria la Ternana come vediamo vince e rialza la testa dopo la contestazione di Natale la squadra reagisce e batte il termo con i gol di Frediani e Pobega i migliori in campo è stata una prova di carattere assenti il patrone il presidente della Ternana ma De Canio dice sono fiducioso e questa era l'ultima notizia per oggi io vi ricordo alle 14 la prima edizione del nostro telegiornale mattino 6 invece torna domani puntuale alle ore 8 è tutto buona giornata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.